Prima settimana di allenamento, è arrivato anche il momento di fare i test qui da Isokinetics, è sempre un punto di partenza per l'annata diciamo così. Sì, è una cosa interessante perché possiamo vedere un po' a che punto siamo della nostra preparazione, della nostra forma fisica e per vedere se quello che stiamo facendo in palestra comunque dà dei bei risultati. State facendo un lavoro nuovo, diverso naturalmente quest'anno con un nuovo preparatore, a che punto siete e tu personalmente a che punto ti senti? Io personalmente mi sento molto bene, è un lavoro diverso rispetto al solito perché comunque stiamo facendo un sacco di esercizi nuovi che tanti di noi non conoscevano e io mi sto sentendo molto bene, adesso poi bisognerà vedere in campo però fisicamente molto bene. Questa stagione che sarà compressa, un po' anomala per forza di cose, per necessità di riorganizzazione, come la vedi in generale e come vedi anche la partenza bella tosta che ci aspetta? Beh, la partenza bella tosta comunque fa bene perché ti fai subito le ossa e comunque prima delle partite contro le grandi in campionato abbiamo tre partite di Coppa Italia che sono fondamentali per noi e comunque sono contro delle squadre del nostro livello e dobbiamo vincere perché noi abbiamo questa ambizione e sicuramente per iniziare bene bisogna vincere tutte e tre le partite.